Se volete acquistare crediti FIFA a basso prezzo andate su FIFAUltimateTeamCoins.com E con il codice GRAN avrete il 5% di sconto Bella ragazzi, benvenuti sul canale di GRAN Siamo oggi qui con un nuovo episodio rotto di Joanne Con un argentone tutto buggato Questo ce fa il nero tu, dico Questo ce fa fuori No, parti scherzi ragazzi, se vinciamo questa Se la vinciamo intanto siamo Salvati, Salvini 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 Siamo salvati, ci siamo salvati Se vinciamo non riesco ai tempi verbali, lo so Ok, giochiamo con me Boh Piccato, ogni tanto capita che stiamo fuori casa Questo è già Nehavamo toccato valla fino a muo Occhio dietro Preciso, eh Oh, vedi che c'è lì C'è l'agentire, c'è l'agentire che corrono però quando vai tirando un po' di imbarazzo Ci sta insomma Tovai, Tovai Che vero Bello Mamma mia, non ti rompio proprio Muo che ha appellato a gol E' bevico Tira No, non lo aspetta E' un po' meglio anche Eh, chi si è, perché non ho fatto caso secondo te Allarga te Eh, eh, eh Mia, mia, mia E' pieno Bello, Cozze, bello, Cozze, bello, Cozze, bello davanti Uh, le ho mandati capriola Che unità di squadra Festeggiano poco insieme Beh, più che altro se vogliano, uno del Borussia, uno del Bayern Ah, perfetto, perfetto Buone, buone, buona Lo puoi andare fino a fondo, vai Metti in mezzo Vai, metti da mezzo, sto da solo Infatti che non stavo io da solo Perché c'è uno, uno, due, tre Tu passa, poi vedi che qualcuno la dà Sì, stai tanto te, quando è l'altro, sicuro sempre che nella passiva è il te fissi, però, è vero Conti come ho fatto così Ahia Si mette in mezzo, Cozze Bello, Noyer Quello, che lo cazzo, fancun Nella rete Mamma mia, la bambina, mi porti a cipolla che mi ha accorto Eh, 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 allaccio, eh E io, ai, 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 no Tengo i luci Ma certe fucilate, Noyer, che davvero è difficile il soppalle Bella, bella, bella ancora Ma l'ottimo così Mamma mia, mamma mia, mamma mia Immobile, citruzzo, dai Ricordi, 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 ricordi Non mi ricordi, sì, sì Mi sa che ricordi, no Vabbè, comunque è buona Ma famo Van Arnold Ma chi è? non c'è nessuno non avevo idea ma no guarda se non ti ha potenza cazzo posso angolo posso così lo carica di più che cosa ho fatto non lo volevo cosa ma se questo va avanti si noia tua noia finiremo si però io non sto più niente tranquillo non c'è niente manco io quindi toccava un altro gol per forza per forza proprio tanto tra panni sugli spazi no no eh si posso tranquillo no ieri e lui viene volete ma dopo i dati che parte e non lo scherzi a quanto faccio faccio apposto per il massimo ma non ho però non fa ste cose perché non se non cadda che se non mi chiede scivola me andavo dritto vabbè avete capito tutti quanti no oh vola noyer non la prende perchè la vuole vola no no cazzo lasciami oddio c'è sta levata solo in mezzo perchè l'ha messa così male perchè e capone young bono bono ti sei sentato fallo no 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 il rigore però c'è ma ha tranciato non è venuto da paura ma buona va bene così ci siamo ci siamo siamo tra panic siamo noi no mamma mia noyer salva tutto che di più ricami questa cosa è sempre così fanno una cosa anche lì cosa ha fatto con quale comparte del corpo la Teresa deve mandarla la ma che sfiga ti odio ma prende a presa non mi ha mai via vai c'è un via vai di gente eccolo no dai d'alta mannaggia mannaggia una giusta tua tua piano non c'ho tempo tranquillo bello bello vai gozze vai gozze vai gozze vai gozze vai gozze vai gozze oggi gozze è magico mamma mia gozze è magico oggi uomo sky se n'ha nato ha rosicato che brutto spero cambia rosicato ha rosicato ha rosicato vittoria vittoria va bene così 70 centesimo questa è la situazione siamo a 10 punti mancano 4 partite ragazzi 2 vittorie siamo in quarta quindi che cazzo vi devo dire dai posto così ragazzi è tutto bello noi ci vediamo alla prossima e ciao ciao